Una guida facile passo a passo per intraprendere il digiuno intermittente. Io sono Luca Veronese, esperto in strategia bruciagrassi e metabolismo lento. In questo canale parliamo proprio di queste tematiche, miglioramento del metabolismo, perdere peso, benessere in generale. Oggi parliamo del digiuno a grande richiesta. Non è una delle prime cose che farei, se tu capiti in questo video. Il digiuno intermittente non risolverà un problema metabolico, per questo, prima di intraprendere il digiuno, io ti invito a vedere il prossimo video che uscirà, esattamente giovedì, dove ti spiego i sei passi da fare prima di iniziare il digiuno intermittente affinché questo digiuno intermittente possa essere di successo, senza effetti spiacevoli, senza ritrovarti a dire ho fatto il digiuno, non ho perso neanche un etto. Bene, ti spiegherò in questi sei passi cosa fare, quali sono le strategie corrette per fare un digiuno che sia di successo. Ora, capiamo durante le ore di digiuno che cosa si va ad attivare, cosa va a succedere nel nostro corpo, soprattutto a livello ormonale, perché quando parliamo di alimentazione, di metabolismo, parliamo di ormoni, non parliamo di calorie. In questo canale non parliamo di calorie. Prima di tutto, cosa succede prima di iniziare il digiuno? Molte persone, molto probabilmente, si trovino qui, hanno un'alimentazione troppo sbilanciata a favore dei carboidrati, come le linee guida raccomandano, 60-65%. Questo li mantiene sempre affamati, hanno un eccesso di glucosio, quindi un eccesso di insulina che abbasserà tutto questo glucosio, e quando sono qui, esattamente qui, è perché prima è successo questo, lo hanno causato, quindi hanno sempre fame. E quando sono qui, ho fame, non di proteine, non di salmone, non di carne, ma di zuccheri, giustamente il tuo corpo ti richiede zuccheri, e questa è la formula per ingrassare. Ma io ti guiderò per uscire da qui, e se resisterai le prime ore, o meglio, se farai i primi passi che spiego nel prossimo video che uscirà, tu non avrai questo schema, ma avrai una glicemia che fa questo, più o meno. Quindi passerai queste ore senza malessere, ok? Comunque se resisterai, dopo le 4 ore, 3-4 ore, il tuo corpo inizia a ristabilizzare anche senza che tu vada a mangiare nulla, perché non sei tu a dover fornire carboidrati al corpo, ma il corpo se li può produrre i carboidrati. Non necessita carboidrati, non esistono carboidrati essenziali perché il corpo se li sa produrre, se servono, se servono per il cervello, se servono per qualsiasi cosa tu debba fare, il corpo se li sa produrre da solo, quindi andrà a ristabilire questo, finalmente l'insulina potrà abbassarsi, finalmente, e tu finalmente potrai iniziare ad andare verso la lipolisi. Ma succedono altre due cose interessanti, quando si abbassa l'insulina, si alzano degli ormoni che mi aiutano tantissimo a livello metabolico, che sono il GH, l'ormone della crescita, un potente ormone lipolitico, mi aiuta a dimagrire, e il testosterone, che è anche questo un ormone che mi aiuta nella ricomposizione corporea e a livello metabolico. Questo accade tra le 8 e le 12 ore. Nelle 12 ore accade la cosa più interessante, circa, mediamente, una persona ha scorte di glicogeno epatico, poi ovviamente dipende dall'attività che fa uno, perché se io prima di digiunare mi sono mangiato due torte, difficile che la lipolisi inizi alle 12 ore, se io ho fatto i passi che ti dirò nel prossimo video, sicuramente inizierò la lipolisi nelle 12 ore, o se fai dell'attività fisica, vai al video 140 qui sul canale YouTube, perché ti spiego come esaurire prima queste scorte di glicogeno, alle 12 ore inizia la lipolisi. Significa che il corpo inizia a smontare grassi per produrre energia, che è esattamente quello che vogliamo. Se vado avanti e continuo, fino alle 16 ore, alle 16 ore ho la cosa più interessante, che è il motivo per cui questo digiuno è diventato famoso, il premio Nobel è stato dato al dottor Yoshinori Osumi, che nel 2016 ha vinto un premio Nobel, perché ha scoperto che con 16 ore di digiuno si attiva l'autofagia. Che cos'è l'autofagia? Il corpo inizia da mangiare se stesso, ok, letteralmente, e a rinnovare le cellule vecchie, che non funzionano più bene, che si chiamano cellule senescenti, con nuove. E questo è interessantissimo, perché noi quando parliamo di metabolismo, parliamo di quello che accade all'interno della cellula, ne abbiamo parlato tante volte, all'interno della cellula ho i mitocondri. I mitocondri sono i principali responsabili della produzione di ATP, che è letteralmente l'energia. Tanto più ATP ho, tanto più ho un metabolismo che funziona bene, una persona piena di energia, piena di vita, una persona che ha un buon metabolismo, che ha una buona produzione di ATP. Invecchiando, noi possiamo invecchiare bene o male, più velocemente o più lentamente, con più energia o meno energia. Questo dipende molto dallo stato, dalla quantità di cellule sane che ho, possiamo dire così, con una buona produzione di ATP. Quindi il digiuno mi va a migliorare la mia funzione mitocondriale. Quello che si è visto dagli studi, fatto su animali, non su esseri umani, perché non si è potuto studiare un gruppo di persone che hanno fatto un digiuno per tutta la vita per affermare questo, però si è visto che chi mangia, per esempio, una volta al giorno e fa l'OMAD, e ha un 30% in più di, aumenta del 30% l'aspettativa di vita. Ok, quindi sicuramente è positivo. Lasciami dire che il digiuno non è pericoloso. Ad oggi le industrie alimentari ci hanno spinto a mangiare, basta pensare, durante la nostra evoluzione mangiavamo una volta ogni tre giorni, si andava bene. E quando mangiavamo, mangiavamo tanto. E poi digiunavamo per un lungo periodo, perché non c'era cibo. E quando c'era, non si contavano calorie, si mangiava. Cibo che la natura offriva. Poi siamo passati una volta al giorno, benissimo. Poi siamo passati a tre volte al giorno. Poi a sei volte al giorno. E oggi siamo passati a mangiare, a avere cose in bocca, o bibite, o zucchero, o caramelle, o snack, a tutte le ore. E questo è l'effetto che le industrie hanno voluto. Quindi se io vado a ridurre tutto ciò, non creo nessun danno. Anzi, ho solo benefici, come dimostra l'evidenza. Ti dirò poi come puoi andare gradualmente a fare il digiuno. I benefici non li ho menzionati all'inizio, li menzioniamo adesso. Sono di tipo economico, perché sicuramente mi devo preoccupare meno di fare meno pasti, spendere in cibo, eccetera. È facile, è sicuramente facile. Ho più tempo, ho più tempo. E il digiuno mi aiuta nei processi di detox. Mi riduce l'infiammazione. Mi aiuta con la resistenza all'insulina. Migliora. Attiva il lato passivo del corpo, quindi, e questo è molto comune al giorno d'oggi, tra i problemi metabolici. Avere un sistema nervoso eccitato, troppo stimolato per lo stile di vita del giorno d'oggi, per gli alimenti aggressori, tutte cose che in questo canale vediamo. Ebbene, il digiuno semplicemente mi attiva il sistema passivo e è preventivo per il cancro, ok? Ora, andiamo a capire che tipi di digiuno ci sono. Allora, il mio consiglio è che tu prima di intraprendere il digiuno vada a fare i passi. Cosa devi fare? I passi che escono nel video successivo, preparatori al digiuno. Per me il digiuno non è qualcosa di obbligatorio. Io consiglio, per esempio, di mettere a posto gli orari e fare questa roba qua, che è semplicemente sistemare orari. Colazio alle 7, cena entro alle 7, poi digiuno notturno, vado a dormire prima della mezzanotte, entro alle 10, mi sveglio prima dell'alba. Sistemare il mio ciclo circadiano e questo è già ottimo per sistemare il tuo metabolismo. Un intermittente non è indispensabile, ma lo puoi fare, altro che se è benefico. Come cominciare? Allora, i passi che usciranno nel video successivo. Poi, se sei qui e mangi 6 volte al giorno, puoi iniziare semplicemente a sistemare orari e fare 3 pasti al giorno. Puoi andare nel video 129 qui sul canale YouTube. Poi puoi passare a 2 pasti al giorno e quindi arriverai a centrare l'obiettivo che è le 16 ore di digiuno. È facile, nel senso che se tu ceni alle 7, entro le 7, poi vai, c'è la notte, alle 7 di mattina saranno già 12 ore, 12, 13, 14, 15, 16, 4 ore in più, quindi alle 8, 9, alle 11, avrai completato le tue 16 ore. Quindi sarà abbastanza facile arrivare al pranzo e hai fatto 17 ore di digiuno. Puoi racchiudere in questa finestra rimanente delle ore che ne rimangono, delle 8 ore, i due pasti, e poi puoi giocarti di prolungare questo digiuno e fare sempre questi due o tre pasti all'interno di queste ore che ne rimangono. Io a volte personalmente faccio questo, faccio il 16 o 20, faccio due pasti nelle ore che ne rimangono, quindi dalle 2, entro le 2 o le 3 e le 7 del pomeriggio faccio i miei due pasti abbondanti e infine, chi vuole provare, può fare anche il digiuno delle 23 ore, ho chiamato delle 24 ore, nel senso che mangi una volta al giorno e il tuo corpo ti accorgerai che lo fa benissimo, lo fa se prima prepari il corpo a affrontare il digiuno, sistemi il tuo metabolismo e il tuo corpo riuscirà benissimo a stare 23 ore a digiuno, non lo fare sempre, lo puoi fare ogni tanto, puoi fare anche le 48 ore, io lo faccio a volte quando viaggio perché sono due notti senza cibo, puoi farlo random, queste sono secondo me regole di vita che uno dovrebbe tenere nel suo bagaglio della conoscenza e farle a sentimento in un certo senso, senza una regola fissa che diventi stressante, a parere mio obbligatorio sì almeno questo, quello dei tre pasti, poi tutto il resto è in più. Questi sono i benefici del digiuno in breve, quello che ci può interessare da un punto di vista metabolico, i benefici più importanti, ovviamente non risolvi la resistenza all'insulina se non applichi la libertà alimentare, non la risolverai, non la risolverai, quindi molto importante unire tutti i pezzi del puzzle, spero questo video ti sia stato d'aiuto, scrivimi qui sotto nei commenti la tua esperienza col digiuno e quale di questi fai, condividi questo video con persone che potrebbero averne bisogno, lascia un like e noi ci vediamo qui sempre tre volte a settimana. Ciao!